Oli Italia è una società di consulenza e comunicazione per le aziende italiane che hanno un prodotto artigianale e mette in comunicazione queste aziende con le aziende distributrici sul mercato americano, quindi i buyers che hanno voglia, curiosità e necessità di acquistare un prodotto che è fatto ancora a mano, con artigianalità e in cui dentro c'è tutta la passione che i nostri artigiani italiani riescono a mettere nei loro prodotti. Io ho lavorato per tantissimi anni nell'azienda di famiglia Salvardi che produce articoli religiosi, metalleria ad altare e li distribuisce in tutto il mondo. Quello di cui mi sono accorta prima di trasferirmi negli Stati Uniti è che manca a volte un ponte, una connessione, un contatto diretto, una faccia per poter presentare i prodotti e questo mette in crisi le aziende italiane perché non sanno a volte come fare, sono talmente impegnate a produrre con eccellenza il prodotto e non riescono, non hanno il tempo, non hanno la possibilità di viaggiare e di andare a contrarre i buyers oltreoceano. Per cui ho aperto questa agenzia proprio con lo scopo di dare una voce più americana, più internazionale a chi ha voglia di mettersi in gioco e di esportare il suo prodotto e di farlo conoscere e soprattutto far conoscere l'identità geografica in cui questo prodotto nasce perché la nostra bella Italia è piena di prodotti eccezionali che hanno dietro artigiani che hanno delle specificità proprio artigianati legati al territorio da cui vengono per cui è bello far conoscere anche l'Italia attraverso tutto quello che è la regionalità e tutto quello che è proprio la distrettualità dei prodotti anche perché l'Italia è piccolina ma è talmente tanto speciale e varia da nord a sud che persino per noi italiani a volte è difficile conoscerla tutta per cui il mio impegno e la voglia con Oli Italy è di portare tutta la nostra bellissima Italia in giro per gli Stati Uniti.